salve a tutti ragazzi io sono squall e rieccoci su digimon world 3 allora riprendiamo più o meno da dove ci siamo lasciati perché sono ritornato nella città di asuga dopo essere arrivato fin qua perché mi sono ricordato che mi davano un inizio nella zona del bar diciamo una zona della locanda dove per l'appunto mi dicevano dove si trovava demon che si trova per l'appunto qua nella prateria del vento e se non andavamo là non l'avremmo mai trovato mentre che stavo ad asuga mi sono anche fatto qualche partita a carte ho farmato un attimino adesso dobbiamo cercare questo demon demon e farci dare questi stivali vediamo un attimino non mi ricordo come si svolge la situazione intanto qua abbiamo il nostro greymon che fa i danni e ha preso anche una nuova tecnica perché è salito a livello 6 e la prende a livello 5 quindi magari al prossimo scontro ve la faccio anche a vedere e adesso vorrei vedere dove si trova il demon perché non me lo ricordo assolutamente e andiamo di flame ball non è la mega meteora ragazzi la mega meteora è decisamente più forte e la vedremo più in là quando sarà livellata a sufficienza però per il momento ci accontentiamo è salita anche a livello 7 ottimo ottimo ok eccolo qua ragazzi vuoi giocare allora a che gioco giochiamo limon voglio gli stivali dell'albero stivali dell'albero a quelli per cacciare gli alberi bene ma prima dovrei giocare con me certo a che cosa giochiamo mi nasconderò nella foresta dei calci e tu dovrai trovarmi se lo farai ti darò gli stivali dell'albero perdi se te ne vai dalla foresta senza trovarmi e se lasci la foresta andrò a casa a mangiare ok ti troverò non sarà facile conta fino a 10 e poi entra nella foresta quindi dobbiamo seguirlo ok ragazzi andiamo a seguire raccontiamo fino a 10 ok sto contando 1 2 3 8 5 6 7 8 9 10 fatto troppo veloce e non lo so andiamo andiamo e che cos'è e perché perdi tempo andiamo bene devo trovarlo si vai con più calma magari lo troviamo prima ora mi ricordo che era imboscato imboscato eppure bene non mi ricordo assolutamente dove se lo trovo mi darà gli stivali ma se esco dalla foresta dei calci perdo quindi non devo uscire da sta foresta ma mi sembra che era tipo qua sopra da qualche parte imboscato malissimo ok l'abbiamo trovato finalmente ops mi hai visto cliccando naturalmente il modo piuttosto randomico io sono agumon limon non è qui non l'abbiamo trovato allora scusa troverai limon auguri ma edizione dai che cos'è ma perché per quale motivo e nulla mi toccherà ancora spippolare in giro cliccando in modo randomico tra gli alberi a quanto sembra perché si nasconde abbastanza bene nel frattempo il nostro graimon sta livellando che è una meraviglia già è praticamente salito al livello 9 quindi a breve dovrebbe apprendere un'altra tecnica forse la apprende al 10 non ricordo assolutamente mi sembra che sia ogni 5 livelli quindi al 10 al 15 al 20 al 25 e così via fin quando non apprende la sua abilità speciale ovvero la mega meteora adesso vediamo se magari livello con questo scontro anche se nel dubito perché ho livellato da poco però forse livella agumon perché giustamente essendo la digivoluzione di agumon anche agumon prende esperienza non che è salito è salito no però non ci ha fatto ottenere la skill quindi forse è a livello 15 la prossima skill ops mi hai visto tu chi sei ok eccolo qua finalmente che cosa però prima ci ho cliccato e non c'era quindi forse da molti forza a trovare agumon ops mi hai scoperto ok ti darò gli stivali come promesso mi raccomando ragazzi qua bisogna cliccare manamente x se ci state giocando se qualcuno gli è rivenuta la voglia di giocarci ehi sei bravo sono colpito ecco prendi sono tuoi gentilissimo e grazie limon o gli stivali dell'albero bene bravo ora vado a cenare torna a giocare qualche volta certo perché no volendo lo potremmo fare e dunque adesso se noi ci avviciniamo ad un albero ci stanno degli alberi in zona sicuramente no ci stanno solamente incontri casuali ecco qua degli alberi proviamo a cacciarli ecco qua degli alberi proviamo a cacciarli la spunta un radar che immagino ci indichi anche se siamo vicini a qualcosa non mi ricordo più come funziona ma chi è qua dice che è rosso quindi magari tipo qua no allora sarà questo assolutamente no allora è questo qua ci siamo ci siamo è qua vicino eccolo qua e qua abbiamo trovato cardmon quindi dobbiamo sconfiggerlo e ci darà un pacchetto di carta extra e questo è un ottimo modo ragazzi per ottenere delle carte in maniera anche abbastanza rapida facendo livellare perché no anche il vostro digimon tentativo di fuga però giustamente tenta di scappare non è semplicissimo dovete essere anche abbastanza forti non so se adesso riusciamo a buttare giù ce l'abbiamo fatto ok l'abbiamo sconfitto abbiamo vinto la battaglia otteniamo anche un bel po' di esperienza graimon e agumon salgono di livello un bel po' di beat pure e abbiamo ottenuto un pacco B che è sicuramente meglio di quello A adesso qua non ci sta più però ha cambiato colore ha cambiato colore ragazzi quindi magari nelle vicinanze c'è qualcosa cioè vedete qua è così e qua è più più scuro quindi non lo so vabbè comunque io direi di andare un attimino in città ad aprirci questo pacchetto di carte nel frattempo recupero un pochettino di di stamina facendo riposare il nostro digimon forse era qua non ricordo più non mi ricordo credo di sì 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 mi sembra che sia questa la zona ok qua possiamo riposare e qua possiamo aprire le carte quindi apriamo le carte oh ok un attimo apro un pacco un pacco B sì vanno alquanto schifo pure queste però piano piano otterremo carte molto più potenti in via della scienza abbiamo anche un bel po' di beat adesso che è un'ottima cosa però attualmente voglio riposarmi e magari dare una salvata perché no ok ragazzi qua mi sa che la rischio la rischio tantissimo non mi ricordo se già lo posso affrontare adesso se mi dice no vattene sei troppo scarso speriamo bene un avversario no ok scusa ho troppa fame torna dopo ok meno male meno male ho paura che devo affrontarla adesso no perché è abbastanza forte questo e sono andato qua principalmente per allenarmi Gremon è già salito a livello 14 penso che a breve sale addirittura anche a livello 15 ci buttiamo giù da una rupe ok non ci siamo fatti nulla non vi preoccupate possiamo buttarci da qualsiasi altezza e qua come potete vedere i mostri sono leggermente più giganti di noi e allora ragazzi si Gremon è arrivato a livello 15 ha preso questa mossa triple fire quindi lanciamo questa magia sono praticamente tre attacchi di quelli base uno segui dall'altro quindi ok 331 per 3 993 tantissimo danno abbastanza forte questa tecnica no e siamo anche saliti a livello 16 Agumon è salita a livello 9 quindi ottimo ottimo io stavo tornando indietro infatti siamo al lato di Divermon perché volevo andare a livellare un pochettino Agumon nella palestra così facciamo diventare un attimino più forte nel frattempo io controllo se ci sta qualche Cardmon in giro e poi il nostro obiettivo è salita salire da questa zona di qua e andare nella foresta Proto attenzione forse abbiamo trovato un altro Cardmon o un altro Digimon dipende un altro Digimon niente Cardmon non si trova però lo riusciamo a shottare abbastanza facilmente con la nostra magnifica tecnica nuova anche se ce ne saranno di migliori attenzione che si è parato da un colpo e abbiamo comunque fatto abbastanza danno per ucciderlo dai ottimo ottimo ok abbiamo trovato finalmente un altro Cardmon quindi prendiamo di magia e vediamo di ottenere un pacchettino da questo mostro così prendiamo anche un bel po' di esperienza si è parato un colpo speriamo che non scappi e però non gli faccio quasi nulla con gli attacchi magici mi sa forse è meglio andare di attacco fisico e questo vedete quella mossa che ci ha fatto difesa ci toglie difesa ci toglie dei debuff insomma un maledetto un completo maledetto si questo è meglio farlo con l'attacco fisico mi sa riusciamo a fargli molto più danno ok eccoci arrivati in palestra finalmente dopo millenina incontri casuali a volte non ne fai per un bel po' e altre volte a raffi a fare un passo un incontro abbiamo altri 20 punti da spendere però ci ha maledetto la difesa quel cardmon maledizione quindi non so se la difesa ha lo stesso risultato perché io volevo migliorargli un attimino la difesa però non so se in questo stato va bene quindi boh faccio una prova utilizziamo sempre 10 così perlomeno guadagno un pochettino dai forza forza vediamo se riesci a ottenere qualcosina vabbè sì 14 di difesa 15 di difesa ottimo dai che fai anche la parte speciale dai 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 grandissimo più 20 di difesa e siamo saliti a 201 e potrei continuare effettivamente con la difesa anche perché mi sto portando praticamente in giro solamente Agumon di avere un minimo di difesa in più non sarebbe male ma sì dai andiamo di difesa ottimo più 16 dai continua così altri 16 no maledizione vabbè dai solamente 32 questa volta abbiamo ottenuto di più prima però ci può anche stare ci può anche stare abbiamo aumentato comunque un bel po' la sua difesa che non è affatto male e adesso ci possiamo effettivamente esplorare la zona di qua sopra dove praticamente non riuscivo assolutamente a leggere i mostri adesso non dovremmo avere alcuna difficoltà in più voglio vedere se adesso ti dico guarda che ho trovato finalmente gli stivali se mi dice qualcos'altro lui gli stivali anche tu sei amico di Vemon sei bravo anche io farò del mio meglio ok basta non dice nient'altro va bene come non detto esploriamoci almeno la zona vediamo se nel frattempo ok forse ne troviamo un altro io sono alla ricerca di cardamon attualmente no troviamo sto ceppetto malefico vabbè dai questo ci vuole con un semplicissimo tipo all fire quindi vamos brucialo tutto quanto no nulla di che ragazzi nemmeno un pacchettino niente come non detto come non detto a questo punto io andrei in città andrei nuovamente a salvare a recuperare vita e mp e poi mi sposterei nella zona della missione a questo punto abbiamo livellato a sufficienza direi ok procediamo verso la zona della missione dunque dobbiamo entrare in un passaggio segreto di questa foresta che ora abbiate pazienza non mi ricordo dove sta perché c'è una zona per passare di qua si può passare ma era da questo lato credo quindi fatemi capire dove sta questo passaggio fatemelo ritrovare come non detto forse era proprio questo il passaggio sì sì era questo però c'è tutto un giro strano da fare per poter arrivare fino all'altro sbattere contro gli alberi finché non mi fa passare in un modo o nell'altro io sono sicuro era andando ancora più in qua no e maledizione qua è complicata la situazione ok ok sembra che stiamo riuscendo a passare perfetto e siamo arrivati nelle rovine abbastanza complicato e non c'è una spiegazione che ti indica cosa fare in questo gioco una volta i giochi ti buttavano così e fai gioca e dovevi scoprire tutto da solo ora battere la pesca qual era la strada per arrivare dal boss naturalmente in questa zona ci sono mostri nuovi ma li dovremmo shottare giusto esattamente siamo abbastanza livellati alla fine abbiamo un buon attacco una buona difesa quindi penso che non avremmo problemi nemmeno contro il boss qua ci sta una scaletta se saliamo che cosa ci sta su assolutamente niente quindi possiamo tornare giù e qua la strada è chiusa quindi proseguiamo da questo altro lato anche a qua siamo bloccati quindi ho sbagliato la strada completamente bene iniziamo bene non è difficilissimo da superare il dungeon basta trovare la strada giusta e poi anzi è semplicissimo ed ecco qua il nostro boss salve boss sono famon proteggo le roine giuro al dio digimon che non perderò allora ti sfido non hai paura ti avverto sono potente voglio proprio vedere bene sei pronto massima potenza musichetta diversa perché siamo contro un boss e combattiamo siamo pronti a combattere quanto ti togliamo ah eh non tantissimo a dir la verità non scherzava quando diceva che era forte quanto ci toglie lui a noi non tantissimo neanche lui però fa un doppio attacco maledetto ok ok abbiamo comunque gli oggetti per curarci nel caso quindi non dovrei avere grossi problemi proviamo la tecnica speciale se magari fa più effetto contro di lui magari questa qua che fa tre colpi se non si pare riusciamo a fargli un minimo di danno oh un minimo tantissimo danno gli abbiamo dato solo due colpi attenzione che anche lui sta facendo una mossa speciale forse questa addormentava o avvelenava credo che avvelenava quanto mi ha tolto quanto mi ha tolto vabbè dai non mi toglie nulla sono più forte io se non mi sciotta sono più forte io perché non mi ricordo se hanno delle mosse che eliminano con un colpo che alcuni ce l'hanno avvelenato ok avvelena solamente vabbè non ti preoccupare adesso ti do fuoco e stiamo tranquillissimi mi sono bastati praticamente tre colpetti ok ok me ne sarebbero bastati anche due o addirittura uno vabbè un colpo solo perché comunque era già morto vabbè nulla di particolare a quanto sembra 120 di esperienze che è tantissima ragazzi se vi state chiedendo perché Agumon si digivolve in Grollmon me lo chiedo pure io quindi se qualcuno ha la risposta che lo scriva nei commenti perché non ne ho la più parietà onestamente credo che sia qualcosa legato al DNA ma perché proprio Agumon si deve digivolvere in Grollmon non ha tantissimo senso ho perso sei forte qualcosa del genere ho schippato sì beh certo meriti di prendere questa che cosa mi hai dato? oh la vecchia asta cosa sarebbe? sei forte i dei saranno con te dunque sei forte i dei sono con te saranno con te eccetera eccetera possiamo andare via andiamo via gli incontri casuali non mancano mai soprattutto quando ti butti giù da una rupe oh guardate un Minotauro un Minotauro che si è riuscita a parare del colpo cioè Minotauro è più forte del boss attenzione ci ha dato pure un pugno in faccia un pugno sulle gengive un pugno sui denti i denti di Agumon sono sporgenti attenzione questo dovrebbe fare male colpito morto non è morto non è morto però quasi e adesso adesso io direi di andare di tecnica speciale così un colpo su tre dovrebbe essere sufficiente per riuscire a eliminarlo facciamo così sperando che non si pari tutti e tre i colpi ok 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 morto bruciato vivo e Greymon sarà a livello 24 attenzione che fra poco apprende una nuova mossa livello 25 ne apprende un'altra vediamo che cosa ci sta qua dentro in qualche modo si esce giusto da qua ok ottimo tu cosa vuoi davvero sfidarmi mi dispiace ma non sfido i deboli ma se davvero ci tieni batti Master Tiranno nella Valle del Tiranno prima ok non hai ancora battuto Master Tiranno non mi spiace non puoi sfidarmi la Valle del Tiranno è nel nord-est di serio io ce l'avevi anche provato però insomma vabbè ti sfiderò ho sete e fame va bene sarò forte nel prossimo scontro uno due uno due mi alleno per Digivolvermi in Metal Greymon eh anche io mi sto allenando per Digivolvermi in Metal Greymon ma ci vuole ancora un bel po' di tempo va bene dai ragazzi io direi che per questo episodio possa anche essere tutto abbiamo affrontato il nostro primo boss su Digimon World 3 abbiamo fatto apprendere a Greymon una nuova tecnica o meglio due perché una non l'avevate ancora vista quindi due nuove tecniche e Hagmon è salito abbiamo aumentato la sua difesa e così via adesso io naturalmente allenerò ancora un pochettino Hagmon e la sua evoluzione Greymon così da poter reggere il confronto con Master Tirannomon che mi ricordo è abbastanza forte sicuramente più forte di Faramon quelli del boss che abbiamo appena sconfitto va bene dai ragazzi io vi invito a iscrivervi al canale lasciare like commentare condividere il video attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti a un prossimo video a un prossimo video ciao a tutti